Meglio avere il cervello che ha la capacità di recuperare a livello totale le energie. Qui in fondo c'è il recupero delle energie fisiche, qui in cima c'è un recupero delle energie psicologiche. Perché ti insegnerò adesso come entrare nella fase alfa. Ai fini del corso di lettura veloce quello che a me interessa è che tu impari a entrare nella fase alfa. Perché la fase alfa è la fase in cui il cervello è più ricettivo, più spugnoso, più in grado di assorbire dati, più in grado di registrare le informazioni. Difatti i bambini perché imparano in fretta? Perché i bambini a una certa età in modo naturale sono in fase alfa. E quindi se so che a livello scientifico entrare in fase alfa mi permette di recepire meglio le informazioni, di registrare meglio tutto quanto, vediamo proprio come fare. Prima di questo, osserva questo slide, osserva questa immagine. Se semino qui, che probabilità c'è che un seme attecchisca? È desolante, è veramente quasi privo di vita questo terreno. Può essere che qualche seme attecchisca, può essere che ci sia qualche filo d'erba, a volte qualche pianta cresce anche sull'asfalto, però su cento forse una. Invece l'obiettivo nostro è proprio fare in modo che più piante semino, più abbiano la probabilità di comunque germogliare e di fiorire al meglio. La tecnica che adesso vedremo, ecco qua, un fiore che magari in un terreno così può essere, però è raro. La tecnica che adesso ti insegnerò, e una l'abbiamo già vista che è lo switch, la tecnica che adesso ti insegnerò di visualizzazione, ci permette di arare il terreno, di concimarlo, di renderlo fertile, perché più il terreno è fertile, più poi il raccolto sarà il massimo del potenziale. E quindi per rendere il terreno fertile ci sono più strategie. Quelle che durante questo corso di lettura veloce vorrei trasmetterti sono quelle del rilassamento mentale, che consiste nella visualizzazione dei colori dell'arcobaleno. Perché? Perché anche i colori hanno una vibrazione. E dopo aver imparato i cicli del sonno, e veramente ti chiedo di sperimentarli, 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 perché di certo troverai un beneficio, vediamo le tecniche di rilassamento, proprio per entrare nella fase alfa, che come ti ho appena detto, appunto è la fase per essere più spugnoso, più ricettivo. Se io semino nella classica fase beta, cosa succede? È come se seminassi qui, ti uso una metafora, io adoro le metafore, anche perché sai, nell'apprendimento avviene questo. Io imparo qualcosa, quando associo qualcosa che non conosco, a qualcosa che già conosco. È proprio il principio cardine di una metafora. E quindi utilizzando la metafora del terreno. Se io semino in fase beta, è come se seminassi qui. Dimmi un po' tu, cosa può attecchire in un terreno così, che non è arato, dissodato, concimato. È un terreno sterile. Può essere che qualcosa attecchisca. Può essere che qualche sprazzo d'erba ci sia. Però può essere raro che ci sia un fiore all'interno di questo terreno. È molto più probabile che se il terreno è arato, dissodato, concimato, possa dare il suo meglio. Anzi, darà sicuramente il suo meglio. E fiorirà tutto in modo molto molto bello, lineare, abbondante. Questo è l'obiettivo appunto di seminare nella fase alfa. E mi chiederai sicuramente come faccio ad entrare in fase alfa? È molto molto semplice, davvero semplicissimo. Poi avrai legato nel cofanetto un CD-ROM proprio con una tecnica di rilassamento e concentrazione. Te lo spiego adesso perché così avrai un utile supporto al CD che trovi. Il rilassamento è un rilassamento mentale. Consiste nella visualizzazione dei colori dell'arcobaleno. Perché si sa che i colori hanno una vibrazione. E non troverai mai una sala operatoria di colore rosso. Perché il rosso comunque è un colore che crea eccitazione. Un rosso è un colore che crea passione. Quindi il visualizzare i colori dell'arcobaleno ci porta a fare che cosa? A entrare immediatamente in fase alfa. E i colori dell'arcobaleno quali sono? Il rosso? Tu li sai Francesca? Qualcuno? Quali sono? Il giallo, il rosso, il verde e il blu? Sì. Il viola? Sì. Vedi, anche a te come sicuramente chi ci ascolta da casa. Spesso li si sanno però in modo shakerato. Ti insegno, siamo durante il corso di lettura veloce, ma ti do una piccola tecnica di memoria per ricordarti benissimo i colori. Sono sicura che ti sarà utile. Sono sette i colori dell'arcobaleno. E abbiamo detto che l'apprendimento avviene attraverso le metafore. C'è un secondo step nell'apprendimento importante. L'apprendimento avviene quando associo una cosa che non conosco a qualcosa che già conosco. Se io ti chiedessi, Francesca, di pensare a casa tua, sapresti descrivermi come è fatta una stanza, cosa c'è all'interno di una stanza qualsiasi di casa tua? Certo. Certo. Quindi è una sorta di archivio. Se ci pensi una casa è un archivio ordinato di informazioni. La stessa cosa avviene qui. Per ricordare i colori. Sai come si può fare? Si può utilizzare una tecnica che usava ancora cicerone. Si chiama la tecnica dei locci ciceroniani. Significa dei luoghi. Cosa vuol dire? Sette sono i colori. Ci servono sette punti di questa stanza. Facciamo un esempio. Non so, il primo punto può essere la poltrona vuota. Sì. Il secondo punto qui dove sei tu. Il terzo punto la lavagna. Il quarto punto la finestra. Che ne so, il quinto punto questi splendidi fiori. Il sesto punto la pianta. E il settimo punto, questa cassettiera, il portatv. Ok. Prova a ripensare i punti. Vediamo se ce li hai. Anche tu da casa prova a rifocalizzarti un attimino su questi sette punti e vediamo se ti sono rimasti. Prova a chiudere gli occhi e me li ripeti. Cosa avevamo? La prima poltrona. Sì. La seconda poltrona. Sì. La lavagna. Sì. La finestra. Sì. I fiori. Sì. La pianta. Sì. E la cassettiera. Perfetto. Quindi abbiamo un archivio, una sorta di percorso precostituito. L'apprendimento avviene quando associo una cosa che non conosco a qualcosa che già conosco. E quindi come faccio? Ogni punto di questa stanza la associamo a un colore in modo un po' particolare e paradossale. Perché pensa alla pubblicità. Se ti vogliono vendere una giacca, non ti decantano certo la qualità della giacca, la lavabilità della giacca. Ti fanno vedere un bell'uomo, una bella donna con quella giacca. Perché più una cosa impatta a livello emozionale, più una cosa colpisce a livello emotivo, più questa cosa si ricorda. Quindi dobbiamo usare un pochino di paradosso, qualcosa che esuli un po' la realtà. Questo ci permette di utilizzare l'emisfero sinistro, che è razionale, procedurale, con l'emisfero destro, che è quello più creativo, più immaginativo. Quindi utilizziamo al meglio le due risorse, e, e, sempre di più, mi sentirei dire che non si è nel o, o, ma si è nel e, e, unire più che disunire. Quindi poltrona rosso, primo colore dell'arcobaleno è rosso. Cos'è una cosa che ti fa venire in mente il rosso? L'amore. L'amore, ok. Solo che è un concetto un po' magari astratto. Quindi è meglio all'inizio rendere qualcosa di concreto. Rosso, delle fragole, che ne so. Adesso è periodo natalizio, quindi possiamo vedere, che ne so, il Babbo Natale. Allora, puoi immaginare anche tu da casa qui sopra che c'è qualcuno vestito da Babbo Natale col vestito tutto rosso, o delle fragole rosso. Arancione. Immagina Francesca che beve la spremuta di arance, o che ha in mano un sacco di arance, ok, arancione. Giallo. Giallo, qui, cosa ti viene in mente col giallo? Il sole. Il sole. Puoi visualizzare un bel sole luminosissimo con dei limoni qui, ok. Verde, beh, e attento perché se mi dici è facile, è già verde, poi lo dimentichi. Se le immagini sono banali e se le immagini sono troppo reali, si dimenticano poi. Quindi qui verde, potrei visualizzare, che ne so, il prato c'è già, però cosa potrei vedere di verde, qualcosa di verde acceso, cosa può essere? Una mela. Una mela, sì, però la mela è anche gialla. È sempre meglio scegliere una cosa che abbia solo un tipo di colore. Vabbè, teniamolo. Immagina però che è tutto tutto verde, che non c'è un prato, ma è indistintamente tutto un secchio verde, ok. Ok, blu, qui cosa possiamo vedere? I puffi, te li ricordi? Sì. Ti guardavi da bambina? Sì. Immagina qui che ci sono i puffi, seduti qui attorno ai fiori ci sono i puffi. Indaco, direi cos'è l'indaco? Chi fa pittura o chi è pittore sicuramente dice non è il colore della melanzana, però per farti capire il colore che mi viene più immediato dirti, è una sorta di viola melanzana. Quindi qui cosa possiamo vedere? Delle melanzane, io che sono gollosa mi vedo la parmigiana. Quindi qui, anziché le foglie, tutto questo albero ha delle melanzane. Per ricordare che si dice indaco, immagina il sindaco, conosci il sindaco del tuo paese? Quindi immagina qui il sindaco del tuo paese con in bocca una melanzana, indaco. Viola, cosa può venire in mente viola? La spiritualità, che ne so, spesso i sacerdoti si mettono una toga viola. Quindi qualcosa di viola qui. Ora, sia tu da casa che tu qui Francesca, prova a chiudere gli occhi e a ripensare a questi colori. Prova a visualizzare, vediamo se sono rimasti e se ci sono. Stai facendo anche tu da casa l'esercizio? Sai che ti vedo anche oltre lo schermo, scherzo, però via wireless veramente, cerco di trasmetterti tutto ciò che posso. Anche se c'è una videocamera davanti a me in questo momento. E per me non è la condizione ideale, perché è più bello avere tante persone. Ok? Prova a dirmeli, vediamo se ci sono. Ok. Il rosso? Sì. Il arancione? Sì. Il giallo? Sì. Il verde? Sì. Qui cosa c'erano? Le melanzane? No, no. Tranquilla, i puffi? I puffi. Però è positivo che tu non te lo sia ricordato, perché probabilmente il puffo non era un'immagine che a te piaceva, o comunque non ti era così tanto rappresentativa. Difatti la cosa bella di una tecnica di questo tipo di memoria cos'è? È che in questo modo comunque ognuno crea le immagini che preferisce. Tipo qualcuno potrà vedere il sole per il giallo, qualcuno i limoni, qualcuno un canarino. Non c'è un giusto o uno sbagliato, la cosa più giusta o più sbagliata è quella che risuona all'interno della persona. Quindi dai, facciamo un rewind velocissimo. Lì cosa c'era? Il rosso. Qua? L'arancione. Qua? Il giallo. Qua? Il verde. Qua? L'azzurro. Qua? Il lindaco. Sì. E qui? E il viola. Bravissima. Anche tu da casa ci sei riuscito? Sicuramente sì, mi auguro proprio di sì. Perché il visualizzare i colori dell'arcobaleno, come ti dicevo, ti fa proprio entrare dalla fase beta alla fase alfa e qui siamo molto molto più ricettivi. Difatti, come ti dicevo, il maggior numero di invenzioni di solito è fatto la sera tarda e il mattino presto, perché in modo naturale in quell'ottica il cervello è già in fase alfa. Quindi se questo lo sappiamo, adesso abbiamo una strategia proprio concreta e di immediata applicazione che ci porta in fase alfa. Ti do qualche indicazione per vivere al meglio il CD-ROM che è allegato, proprio per riuscire a usare anche la giusta postura, perché durante il rilassamento, proprio per preparare il terreno mentale ad essere più spugnoso, è importante creare quello che in psicologia si chiama ancoraggio. Sai cos'è l'ancora? Sì. Cos'è? È per attraccare le... Ah, ok, sì. Quella è l'ancora tecnica, sì, in effetti. Però in psicologia qualcos'altro è un ancoraggio. Adesso ti spiego. Quante volte ti succede di sentire una canzone ed entrare immediatamente in un certo stato d'animo? Un profumo ti richiama, che ne so, un episodio particolare, una persona. Anche a te succede una cosa così, che abbiamo costantemente degli stimoli esterni che associamo a delle emozioni interne. Uno stimolo esterno lo associamo a qualcosa di interno. Pavlov, uno studioso molto molto famoso che ha ipotizzato la teoria del condizionamento. Cosa faceva Pavlov? Pavlov dava la pappa al cane, mentre dava la pappa al cane suonava un campanello. Pappa al cane, campanello, pappa al cane, campanello, pappa, campanello, pappa, campanello, pappo, pappa, campanello, la stessa cosa. Dopo circa un mese bastava che suonasse il campanello e il cane in automatico cosa faceva? Salivava. Cioè, ripresentava tutte le sintomatiche fisiologiche dell'avere sotto gli occhi o sotto la bocca il cibo. Perché a livello inconscio aveva creato una neuroassociazione, una sinapsi, una sorta di solco mentale di collegamento tra questo stimolo esterno che era il campanello e la pappa. La stessa cosa possiamo farla noi con il rilassamento. Cosa significa? Che, veramente seguimi bene su questo punto perché ci tengo tantissimo. Se tu, prima di iniziare a fare gli esercizi di lettura veloce, oppure nella tua quotidianità, prima di fare qualcosa di impegnativo, di importante, che richiede in toto la tua concentrazione, facessi il rilassamento, sarebbe veramente molto molto utile. Anzi, non uso più il sarebbe, sarà, perché davvero ci tengo che quello che ti sto trasmettendo con tutto l'amore che ho dentro, tu possa utilizzarlo immediatamente per trarne beneficio. Cosa vuol dire in questo caso creare un'ancora? L'ancora è questa. Se, quando faccio il rilassamento, unisco pollice, medio e indice in questo modo, vedi, pollice, medio e indice in questo modo, e faccio rilassamento ogni giorno per 21 o 30 giorni, te lo ripeto perché questa parte è importante, Ogni giorno per 21 o 30 giorni, entro un mese, basterà che tu faccia questo gesto e in automatico cosa accadrà? Il tuo corpo e la tua mente entrerà nella fase alfa, perché avremo creato la neuroassociazione tra questo gesto e uno stato interno mentale e fisiologico. Perché 21 giorni? Perché per far sì che una cosa nuova diventi un'abitudine, ci si mette dai 21 ai 30 giorni. Questo proprio si chiama ciclo di adattabilità alle nuove abitudini. Ripeto, per far in modo che una cosa nuova diventi un'abitudine, ci si mette dai 21 ai 30 giorni. Questa è una cosa veramente molto, molto, molto importante e determinante. Quindi, attento, perché ogni tanto qualcuno ai corsi mi dice Ah, guarda, ho fatto rilassamento, però i primi giorni, i primi 10 giorni l'ho fatto ogni giorno. Perché ti ricordo che negli obiettivi funziona sempre così. Quando ci poniamo un grande obiettivo, i primi giorni siamo molto, molto ligi. Dopo la prima settimana, dopo la seconda settimana, si inizia a essere un pochino più permissivi con noi stessi, più blandi nel continuare a perseguire quell'obiettivo. Comunque, cosa significa? Che se io per 10 giorni faccio rilassamento e poi per 2 giorni non lo faccio più, non è che il tredicesimo giorno mi sento in colpa e ne faccio 10 e recupero. No, ahimè, bisogna ripartire da zero. Quindi può valer la pena dedicare... Quanto ci metti a visualizzare dei colori? Quanto? È pochissimo, è velocissimo. Può valer la pena dedicare ogni giorno un minuto di tempo per fare questa cosa? Per poi essere sempre tutta la vita al momento giusto, nella condizione, nel contesto giusto, nella fase più ricettiva, penso di sì. Quindi fai rilassamento facendo questo gesto. Se tu lo farai ogni giorno, per questo periodo, avrai poi quella strategia vincente che ti consentirà in qualche istante, in qualche secondo, di riaccedere immediatamente a questo stato d'animo. Quindi all'inizio segui pure il supporto che hai esterno. Dopo un po' utilizza i tuoi ritmi, perché dopo un po' magari nel fare il rilassamento hai bisogno di farlo in un minuto, in due minuti, in tre minuti. Impara e abbi la consapevolezza di ascoltarti. Quando imparerai ad ascoltarti, veramente riuscirai ad avere quel risultato in più. Quindi ricordati, questa è un'ancora. Stimolo esterno, i colori, mi rievocano uno stato d'animo interno. Una delle ancore più famose è, se ci pensi, quella degli All Blacks. Hai presente? Non so se hai mai visto la danza che fanno gli All Blacks, che è una squadra di rugby, prima di entrare in campo. La danza che fanno, ti consiglio su YouTube, se tu digiti All Blacks, veramente ti ne escono tante, tante manifestazioni, tanti, tanti video. La cosa bella è che il fare quella danza porta gli All Blacks, questa squadra di rugby, a entrare in uno stato d'animo di aggressività, cattiveria, che è lo stato d'animo giusto prima di entrare in campo. La danza che fanno gli All Blacks è la stessa identica danza che fa la tribù dei Maori, prima di entrare in guerra. I Maori sono una tribù neozelandese. Poi ti spiegherò cosa significa, perché questo, questo movimento, questa falcata, queste urla, questi gesti che fanno gli All Blacks, guardalo davvero, ne vale la pena, ti fa entrare, lì fa entrare nel campo morfogenetico, poi ti spiegherò cos'è, nel campo morfogenetico di quell'energia, quindi ti fa accedere e introiettare l'energia di guerra, che prima di una partita di rugby è quella che ci vuole, perché se tu prima di una partita di rugby pensassi al figlioletto appena nato e entrassi in uno stato d'animo di dolcezza, forse non sarebbe poi così tanto ideale. Quindi, ricapitolando, visualizzando i colori, facendo questo gesto, è proprio una cosa che ci riporta ad un ancoraggio positivo. E due consigli anche proprio sulla postura da utilizzare. Puoi venire qui da me un secondo? Grazie. Ti chiedo di ispirare ed espirare profondamente due o tre volte. Vai. Ancora. Osserva da casa cosa ha fatto Francesca, quello che fanno sempre tutti, perché ormai dopo migliaia e migliaia di persone che ha avuto i corsi, è sempre così. Com'è che si respira? Prova di nuovo. Vai, vai, respira. Cosa stai notando da casa? Che? Cos'è che fa Francesca? Posso permettermi? Tira la pancia in dentro e spinge il petto in fuori. Che è la classica respirazione toracica e non diaframmatica. Se tu osservi un bambino che dorme, un animale che dorme, una persona adulta serena che dorme, com'è che respira? Respira di pancia. Hai mai visto gli animali, i bambini che gonfiano la pancia? Se tu osservi anche chi fa apnea, un cantante, una persona esperta in teatro, com'è che respira? Facendo come stai facendo tu, anziché andare a gonfiare d'aria tutto il polmone, cosa succede? Che la base del polmone la vai a comprimere, a restringere. E si sa che l'ossigeno comunque crea energie, è uno dei cibi più importanti del nostro cervello. La respirazione è importante. Durante il rilassamento la respirazione giusta non è quella di torace, non è la toracica, ma è quella di diaframma. Prova a rimanere immobile qui e a gonfiare la pancia. Non è così semplice all'inizio. Ci si sente un po' in peditelli. Allora, un consiglio perché sicuramente anche a te, magari come Francesca, non è così tanto congeniale, è la respirazione diaframmatica. Ti metti steso, perché l'ideale è fare questa cosa da distese all'inizio. Perché? Perché da distese è molto più naturale. Siamo abituati quando dormiamo a respirare di diaframma. Quindi magari ti metti steso sul letto con qualche vocabolario, qualche tumone grosso sulla pancia e ti alleni a farlo sollevare e riabbassare. Proprio come se immaginassi un palloncino da gonfiare all'interno della pancia. Questo è importante perché durante il rilassamento se unisco l'ancora delle dita alla respirazione è l'ideale. Infatti io ti consiglio, prima di ascoltare il CD-ROM, di trovare una posizione comoda, possibilmente da sdraiato come prima volta. Ci siamo? Sì. Io prendo lei come alter ego di chi ci sta seguendo a casa, così almeno se hai qualche dubbio, anzi ti chiedo davvero, se hai qualche dubbio, esternarmelo, perché magari il dubbio che puoi avere tu è lo stesso dubbio che può avere chi ci sta ascoltando da casa. Va bene. E non c'è un dubbio intelligente o stupido. Ok. Qualsiasi dubbio, se esiste, ha ragione di esserci. Quindi veramente ti chiedo aiuto in questo. Ok. E sono sicura che tu apprezzerai perché così, anche perché da adesso in poi ci saranno tantissimi esercizi pratici. E magari per me, che sono quasi vent'anni che li spiego, è naturale conoscere e capirne i meccanismi risvolti. E per chi invece è neofita non è così tanto naturale. Quindi ti prego fammi tante domande. Ricordi l'applauso a due mani. Sì. Adesso ti chiedo di metterci davvero tanto l'altra mano. Chi a casa apprezzerà? Va bene. Grazie. Quindi, tornando a noi, 21-30 giorni con la giusta respirazione, il giusto gesto per riuscire a entrare in fase alfa. Facciamo un check, lo chiedo anche a te a casa, così ci divertiamo un attimo. La cosa bella del memorizzare con i loci è che se memorizzo da destra verso sinistra, posso anche fare il contrario. Mentre quando memorizzo classicamente, se mi viene interrotta la cantilena mentale attraverso cui imparo qualcosa, cosa succede? Perdo il filo. Ti faccio un esempio. Mi puoi dire un numero di telefono che conosci molto bene? Sì. Senza il prefisso? 9-3-6-8-7-6-2. Me lo dici a cifre di tre? 900. 900. Vai, vai. 936. Sì? 762. Ne manca uno, però. Sì. Quindi, cosa significa? Che in questo caso siamo vincolati a una sorta di cantilena mentale. L'alfabeto dalla A alla Z, lo sai? Sì. Dalla Z alla A? No. Più difficile. Invece la cosa bella della tecnica dei loci, quindi dei luoghi, è che posso partire anche al contrario. Che colore c'era qui? Il viola. Qui? L'indaco. Qui? Il blu. Lì? Il verde. Lì? Il giallo. Lì? L'arancione. È rosso. Se ti chiedo qui? Il blu. Lì? Il verde. Il monitor lì? Il viola. Ecco, posso anche andare a salti, questa è la cosa bella. Nella visualizzazione dei colori però è fondamentale che tu segua l'ordine, perché, ti faccio un esempio banale, quando una persona fa una ricetta, cucina qualcosa, c'è un ordine ben precostituito. Io che sono molto gollosa di dolci, non potrei fare una torta mettendoci il latte, il lievito e poi la farina, perché non mi lievita. Quindi anche qui, nei colori dell'arcobaleno, mi raccomando, segui proprio la sequenza esatta. Da rosso, che è un colore power, che dà potere, che dà energia, che è anche lo stesso colore del primo chakra, via via al settimo colore, che è quello della spiritualità, della connessione con qualcosa che va oltre noi stessi. Ecco, visualizzare questo ci porta nella fase alfa. Perché adesso siamo quasi pronti per una cosa che a me ha dato tanta, tanta soddisfazione. La tecnica che fra un po' ti illustrerò è una tecnica che mi sono inventata io e creata io in questi anni, proprio perché avevo delle persone che non riuscivano a capire come muovere l'occhio in modo diverso rispetto a prima. Ti lascio un attimino a sperimentare attraverso il CD-ROM il rilassamento se vorrai e ci vediamo fra un attimino con la tecnica della visualizzazione attraverso l'utilizzo della fisica quantistica. L'ultima cosa prima di finire però questa parte, lo switch, perché ti ho detto che ti avrei dato due, due, due strategie per fare in modo che il cervello fosse in fase alfa e fosse ricettivo e spugnoso. Una è quella del rilassamento dei colori. Dopo aver finito il rilassamento si fa lo switch. Proviamo e poi ti lascio sperimentare. Chiudi gli occhi, mettiti nella postura nulla di incrociato, postura bene retta, pollice medio indice uniti, in questo modo, appoggiali pure sulle tue gambe, perché se stai con le mani alzate puoi avere una vasodilatazione. Con la vasodilatazione, se stessi così, avresti quella brutta sensazione di formicolio, quasi di perdita di sensibilità della parte. Quindi chiudi gli occhi, pensa al rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola e switcha.